EZIO GUAITAMACCHI E' beato lui, diciamolo. Ma che bel sole che c'è. E' qui per presentare il suo libro Crocodile Rock, immagino dal titolo di quel famoso brano di Elton John, storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che unisce musica e animali. Questo libro è stato scritto insieme ad Antonio Baciocchi. Buonasera innanzitutto, Aezio. Grazie, buonasera a voi. Grazie a tutti. 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 beh se le tue proposte non funzionano buttagli lì una cosa che riguarda musica e animali perché secondo me tu hai raccolto un sacco di materiale e il nostro cagnolone ti potrebbe dare una mano così lui ricordandosi di questo caldo suggerimento proprio sulla porta del mio studio mi disse questa cosa io disse alt, questa mi piace lo fai diventare da quel momento mi ha inondato di un sacco di informazioni perché in realtà il libro avrebbe dovuto essere un suo libro ma diciamo che tutta la mole di informazioni che mi aveva che mi mandava aveva bisogno comunque di essere trasformato in un libro che è il mio ruolo come lettore della collana però al tempo stesso visto che hai citato Greenpeace visto che hai citato il Festival Musica e Natura che era dello stesso periodo parliamo del 1990 e del 1991 ha riaperto in me quei ricordi anche delle conoscenze proprio del rapporto tra musica e natura che poi sono andate a costituire la prima sezione del libro così come il discorso delle organizzazioni ambientaliste animaliste costituiscono un'altra delle sei sezioni del libro perché proprio un'organizzazione come Greenpeace non tutti lo sanno non è stata soltanto aiutata e sorretta e promossa dalle star della musica ma è nata grazie a un concerto che nel 1971 James Taylor e Johnny Mitchell fecero raccogliendo 35 mila dollari che furono necessari per la prima operazione per la prima azione che fece questo gruppo di professionisti americani che si erano trasferiti in Canada che avevano costituito un comitato e volevano fare in modo che il governo americano pensate un po' smettesse di fare all'insaputa del mondo esperimenti nucleari in un'isoletta che era non lontana dalle coste dell'Alaska per cui avevano bisogno di questi soldi per noleggiare un'imbarcazione che li portasse là che avesse a bordo giornalisti e dei legali proprio per denunciare tutto ciò fu fatto l'organizzazione prese il nome di quel vascello che si chiamava proprio Greenpeace e due anni dopo il governo americano fece un comunicato in cui diceva che avrebbe interrotto da quel momento gli esperimenti nucleari quindi fu il primo successo di Greenpeace e da allora l'organizzazione che è la più amata delle rock star ha creato proseliti perché nel libro ci sono un sacco di altre storie bellissime e anche queste sostenute da personaggi della morte della musica Paul McCartney su tutti mi viene in mente che fu veramente un vegetariano e fautore del veganesimo antilitteram noi riportiamo una grossa frase una citazione che dice proprio di Paul McCartney che dice se le pareti dei macelli fossero fatti di vetro fossero trasparenti nessuno di noi mangerebbe più carne quindi questa è una parte appunto delle grandi sei aree del libro che parla appunto proprio di organizzazioni animali collegate alla musica quindi l'importanza anche proprio della musica e delle star mondiali internazionali che si impegnano appunto nell'ambiente natura e animali grazie al cielo oggi c'è anche più sempre più attenzione andiamo un po' indietro crocodile rock chiaramente il nostro baronetto c'entra però la foto in realtà vuole essere anche un po' fuorviante perché Ezio in realtà crocodile rock non è collegato ai coccodrilli o agli alligatori ma è un'altra storia esatto è un'altra storia però era un titolo che a noi piaceva molto anche se hai ragione tu è un po' fuorviante perché non è bello come cosa è proprio è piacevole essere fuorviato in tal senso perché scopri una cosa bella no? perché la canzone Elton l'ha scritta come diciamo tributo come omaggio proprio al rock and roll delle origini quello degli anni 50 e in quegli anni i musicisti soprattutto i musicisti jazz tra di loro si chiamavano appunto con questo vezzeggiativo strano no? crocodile c'è il famoso see you later alligator no? e la risposta era in a while crocodile quindi lui scrisse questa canzone che infatti dice mi ricordo quei giorni bellissimi in cui appunto c'era molto divertimento e parla appunto dei giorni spensierati della sua adolescenza che era come l'adolescenza di tanti giovani di quegli anni aveva come colonna sonora proprio rock and roll però appunto ci è piaciuto questo titolo e c'è tutta un'intera sezione del libro che parla proprio delle canzoni che o hanno come tema gli animali o nel loro titolo hanno il nome di un animale perché gli animali sono stati comunque e continuano ad essere una fonte importante di ispirazione anche per i musicisti molti li hanno messi in copertina noi possiamo e raccontiamo le storie di tante copertine di album leggendari che hanno come protagonisti anche gli animali pensate che uno degli album più venduti della storia che era Tapestry di Carole King nel 1971 lei era diciamo ovviamente era la protagonista di questo shooting fotografico per la copertina del libro nel suo disco quando il suo gatto Telemachus balzò come fanno spesso i nostri cuccioli di cow gli animali domestici per andare vicino a lei il fotografo continuò a scattare e poi venne scelta proprio la foto con il gatto di fianco a Carole e per cui questo gatto è diventato per un certo periodo una star a sua volta perché quel disco per un 3-4 anni è stato il disco non solo un disco meraviglioso e di grande influenza ma anche il disco più venduto della storia della musica fino all'avvento mi pare di Bad Out Of Hell di Meat Loaf o poi di Rumors di Fleetwood Mac quindi parliamo degli anni 70 ecco la prefazione è affidata a una persona direi abbastanza importante Lori Anderson compagna di Lou Reed una storia bellissima so tra l'altro che tu sei legato a lei ad un'esperienza stupenda un concerto per cani so che è stato bellissimo col tuo cagnolino ci vuoi dire le emozioni che hai provato? sì perché la storia che Lori Anderson e Lou Reed per un certo periodo avevano una cagnolina a cui erano super super affezionati questa cagnolina divenne cieca e perse un po' quindi i propri riferimenti una loro amica suggerì loro di fare della musicoterapia quindi la cagnolina suonicchiava il pianoforte ovviamente però queste note questi suoni le avevano ritrovati le avevano fatto ritrovare la voglia di vivere quando poi la cagnolina è mancata Lori aveva che è un personaggio di creatività di una bravura straordinaria si era inventata questo concerto per cani aveva fatto anche un documentario bellissimo dopo anche la morte di Lou Reed e si chiama proprio Il cuore di un cane The heart of a dog e alla fine della proiezione nel teatro parenti a Milano c'era questa diciamo performance proprio per poche persone saremmo stati una settantina ciascuno di noi aveva il proprio cagnolino quindi noi avevamo il nostro cagnolino Dylan che fu invitato sul palco quindi Dylan ha realizzato un mio sogno per essere sul palco insieme a Lori Anderson e lei aveva spiato questo concerto in cui studiando le frequenze che gli animali riescono a percepire perché hanno un udito finissimo raffinato molto più sensibile rispetto a quello degli umani riusciva a trasmettere loro delle sensazioni che loro riproducevano con momenti di grande entusiasmo muovendo scodinzolando oppure si mettevano con le orecchie basse oppure la guardavano affascinati e il mio cagnolino era tra di loro e quindi ha avuto questo ruolo di corpo che lui mi stava aspettando una cosa che io manco pagando avrò mai nella mia vita stupendo meraviglioso grazie per averlo condiviso con noi un'altra diciamo bellissima parte anche dedicata soprattutto la prima alla supervisione di Walter Maioli che è un vero e proprio archeologo dei suoni ecco se così si può dire perché proprio l'importanza anche del mondo animale in quello che è il mondo della musica è proprio ancestrale arcaica nel senso cioè l'uomo ha imparato anche a cantare ma a parlare anche ascoltando imitando il suono degli animali quindi avete fatto anche proprio questo lavoro come dire proprio dall'inizio sì la mia conoscenza il mio incontro con Walter Maioli che tra l'altro è stato a sua volta musicista a fine degli anni 60 i primi anni 70 chi forse ha letta le conoscenze per ricordarselo era una band che si chiamava Actuale era del giro di Franco Battiato Claudio Rocchi sono questi musicisti sperimentatori di quegli anni poi si è dedicato interamente a questo studio dell'archeologia dei suoni ed è uno dei massimi esperti posso dire che ha collaborato con Martin Scorsese con Albertazzi con un sacco di registi e di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo ho voluto affidare lui perché io l'avevo conosciuto proprio nei giorni in cui facevo il festival musica e natura e lui aveva uno spettacolo proprio sulla musica primitiva io in quei giorni invitai in Italia un grandissimo musicista americano che si chiama Paul Winter fu insieme a Stan Getz il jazzista che unì per la prima volta lo creò una fusion tra la musica jazz e la musica brasiliana poi un giorno si imbatté in questo Roger Payne che è uno dei più bravi oceanologi del mondo e che aveva registrato e studiato i suoni e i canti della balena che hanno la struttura proprio delle melodie delle sinfonie degli umani bene Paul Winter affascinato da questa cosa si fece dare queste registrazioni le filtrò e creò delle vere e proprie io le chiamo sinfonie bestiali per rimanere in tema in cui duettava con il suo sax soprano con il canto delle balene creando veramente delle cose bellissime di grande emozione di grande suggestione e poi registrando a sua volta l'ululato del lupo il barrito degli elefanti insomma pensate che tutti gli anni in una chiesa di Manhattan nel giorno del sostizio d'inverno Paul Winter raduna come se fosse una arca di Noè del nuovo millennio coppie di animali e all'interno di questa chiesa si celebra una vera e propria missa gaia musicale dedicata alla natura e agli animali quindi la prima sezione del libro è tutta dedicata a questo tipo di liaison agli strumenti che sono costruiti con elementi animali a quelli che ricalcano come dicevi tu i suoni che l'uomo davvero ha imparato anche a parlare imitando le voci degli animali quindi tutta una serie di operazioni che ancora oggi sono davvero sperimentali di straordinarie suggestioni io guarda ho avuto la fortuna di girare per il mondo un po' per dilette un po' per lavoro anche in luoghi remoti e l'osservazione delle balene dei cetacei marini e l'ascolto proprio una volta su una nave di Greenpeace c'era la possibilità di mettersi in cuffia con il sonar e di ascoltare i canti della balena megatera sono di un'emozione folgorante come vedersi Mick Jagger a due metri ecco per usare diciamo un paragone con il mondo per far capire proprio il livello emotivo della cosa no ma ci credo mi piacerebbe tantissimo Ezio insomma gli animali hanno ispirato e ispirano tantissimo sia proprio da un punto di vista strumenti voce l'inizio sia le nostre band i nomi le copertine cioè sono sempre entrati nel mondo della musica però c'è un genere in particolare dove hanno avuto un esploat totale il pop rock è quello proprio un genere dove c'è stata quasi una come dire proprio un'attenzione una scelta mirata vogliamo dire non so un'Italia magari certo perché anche il libro comunque ha sempre un occhio in ogni sezione in ogni capitolo c'è sempre un occhio anche alla musica italiana cioè tutti gli argomenti di cui stiamo parlando c'è sempre poi un potere anche che riguarda musicisti italiani canzoni italiane gruppi pensate a tutti i gruppi degli anni 60 i Dick Dick i Camaleonti i Poo stessi cioè tutti che hanno scelto nomi di animali o canzoni legate al mondo animale mio amico Angelo Branduardi con la Fiera dell'Esta ci ha costruito quasi una carriera no? e poi ovviamente c'è tutta una parte in cui le rock star le pop star sono diventano come tutti noi cioè hanno si affezionano e adottano un cagnolino un gattino un uccellino altri animali domestici e creano con loro una simbiosi totale diventano a tutti gli effetti questi animali parte integrante delle loro famiglie e ci sono storie veramente fantastiche anche commoventi da Dolly Parton che grazie al suo cagnolino diciamo ha evitato un gesto fatale perché era in una forma fortissima di depressione voleva togliersi la vita oppure la stessa Billie Holiday un personaggio drammatico pieno di contraddizioni che aveva questo boxer che si chiamava Mister che la seguiva ovunque si metteva dietro le quinte e la guardava lei che cantava questi blues struggenti invece lui era tutto goduto a vedere la sua padroncina oppure pensate al rapporto che aveva Freddie Mercury con i suoi gatti si diceva che lui telefonasse a casa e si facesse passare il gatto perché poi alla fine che agli animali lo sa siamo tutti un po' pirma da questo punto di vista si amano tantissimo ho visto anche che avete dedicato ai nostri cagnolini cagnoloni è bellissima anche questa cosa perché si amano poi diventano parte integrante anche della famiglia è assolutamente così questo è un libro bellissimo anche perché è pieno di aneddoti è pieno anche di foto questo non l'abbiamo detto pieno di foto di documenti di copertine è anche un'operazione culturale vera e propria è proprio poi ci sono le storie raccontate da chi ha vissuto la musica per tanti anni perché comunque tu raccontate anche di un'esperienza di anni vissuta nella musica e questo non si trova da nessuna parte se vai su internet o google a cercare quella è vita vissuta poco c'è poco da fare quindi è imperdibile questo libro ragazzi assolutamente mi ha colpito anche come dire la cosa al contrario che gli appassionati di musica hanno chiamato delle specie animali con il nome magari di star appunto del mondo della musica cioè dei mollussi che hanno il nome magari di star rock quindi tutto al contrario siamo tutti contaminati e influenzati praticamente e questo ti fa capire anche l'importanza che questa musica ha avuto se gli scienziati addirittura si ispirano ai David Bowie ai Lou Reed ai Bob Dylan ai Frank Zappa per dare nomi a specie animale vuol dire che questi personaggi hanno avuto non solo diciamo un'influenza straordinaria ma anche hanno raggiunto vette artistiche che forse solo l'uomo degli anni 3000 riuscirà a comprendere appieno esatto ancora ci vuole tempo e poi delle storie pazzesche dico una i ragni di Marte ma lo devono scoprire i nostri amici a casa acquistando e leggendo questo libro che ripeto non è solo un libro da leggere assolutamente è anche un libro unico e questa volta lo possiamo veramente dire non proprio è così fuori di metafora senti Ezio vabbè tu cosa dire complimenti grazie davvero per essere stato con noi sei un continuo vulcano sei a lavoro già ci sono altri libri so tutto posso farti una domanda come quando scrivi un libro il tuo neanche obiettivo il tuo desiderio premario di trasmettere al lettore qual è perché sei pieno di idee come ti vengono è quello guarda è un tuo autorealistenza un tuo dono però cosa ti piace trasmettere proprio principalmente a cosa tieni che arrivi ecco ti tengo a due cose innanzitutto a raccontare delle storie perché come dico spesso la storia del rock è talmente fantasiosa piena di episodi incredibili che neanche il miglior sceneggiatore hollywoodiano poteva inventarsela di meglio e la seconda cosa che è diciamo dello stesso livello io mi auguro che raccontando queste storie raccontando questi aneddoti qualcuno si incuriosisca e vada a scoprire o a riscoprire grandi canzoni per cui alla fine noi parliamo di musica e la musica va ascoltata raccontarla è bellissimo voglio dire farne anche degli spettacoli però poi alla fine la musica arriva e ha una sua forza una sua capacità di emozionare che è assolutamente unica e soprattutto quando parliamo di queste grandi musiche quello è il loro valore quindi quello è l'altro mio obiettivo beh direi un obiettivo importantissimo è nobile sei un lettore appassionato solo di musica o ti piace leggere qualche altro genere in particolare? io oltre alle biografie dei grandi artisti leggo i gialli infatti alcuni dei miei libri hanno poi messo insieme la musica con il lato noir della musica stessa o delle vite dei personaggi del mondo della musica e del rock in particolare che spesso hanno avuto morti tragiche morti misteriose insomma diciamo il dark side non della luna come cantavano i Pink Floyd ma magari il dark side delle loro vite e dei finali delle vite stesse li abbiamo Ezio proprio alle tue spalle guarda quella libreria lì ci sei in più libri anche quello di cui stai parlando grazie davvero per essere stato con noi è stato un grande piacere un onore complimenti per tutto ricordiamo i nostri amici a casa Crocodile Rock storie aneddoti curiosità e tutto ciò che unisce la musica e gli animali Epli Editore Ezio Guaitamachi per Real Team TV grazie Ezio buona vacanza grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi